Gentili telespettatori, buona giornata. Draghi avverte Letta, basta liti con gli altri partiti. Certo che quando Draghi ha visto arrivare questo Letta dalla Francia, che si è trovato subito un nuovo lavoro, una nuova professione, l'antisalvini, l'antagonista, Draghi sarà rimasto con gli occhi così dicendo, oh santo, 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 eccone un altro. Io credo che lui pensi di avere a che fare con dei bambini dell'asilo. Cioè il capo di un grande partito, richiamato dalla Francia, questa figura che dicono di spessore di qui e spessore di là, e arriva e continua a criticare tutti i momenti Salvini, ma con delle motivazioni o inesistenti o infantili o senza senso. Tira fuori delle priorità senza senso. Io credo che Draghi sarà rimasto a bocca aperta, a bocca aperta. Poi le grane interne, adesso Letta che propone donne dappertutto, no? Qualsiasi nomina solo donne. Dice, ma Letta, ma ragionano, come direbbe Benigni, ragiona, 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 ma cosa stai facendo? Perché Zingaretti ha proposto una lista dove non c'erano ministri? Adesso tu metti donne dappertutto, ma ragiona, ma cosa fai? Infatti nel suo partito hanno detto, ma cos'è che ci sta imponendo donne dappertutto? Ma che modo è? Ma cosa sta facendo sto tizio? Molti nel PD stanno pensando, ma non potevano lasciarlo lì dove era fare il preside della scuola di scienze politiche, no? Se si trovava bene, perché non l'avete lasciato lì? C'era Bonaccini, quello è un... Bonaccini è un signor politico, eh? Sarà di sinistra, ma è un signor politico, no? Volete confrontare, non so, Calenda? Calenda è un altro che dice le cose come stanno, come Bonaccini, come Cacciari, ecco, no, chiamano la continuità di Zingaretti, forse la continuità in peggio, perché Letta sembra la brutta copia di Zingaretti, la brutta copia di Zingaretti politicamente parlando. Beh, insomma, adesso poi la grana con Marcucci che dice ma questo vuole piazzare donne dappertutto per sentirsi a posto con la coscienza, ma che modo è? Dice Marcucci. Insomma, è proprio nel giorno in cui il nuovo segretario del PD incontra per la prima volta Draghi un incontro di... dove dicono uno scambio di idee con il nuovo leader della sua maggioranza. Draghi, secondo fonti di governo, non apprezzerebbe molto il continuo battibecco polemico tra i capi di partito, PD e Lega, dopo ogni decisione presa dal governo. Draghi dice io capisco la necessità identitaria e dei partiti, ma preferirei non fossero perseguite a scapito del governo. Insomma, Salvini è costretto ogni giorno a replicare alle accuse senza senso di questo signore qua, no? Che ci sta facendo tanto divertire facendo far tanti video. Ecco, Letta vuole due donne adesso ai vertici dei gruppi di Camera e Senato. Deve mettere due donne perché dice visto che non hanno messo ministri donne, allora facciamo che risolviamo la questione in questo modo. Però è abbastanza infantile come cosa, non vi pare? Beh, intanto molti dicono ma no, ma Letta lo fa perché vuole regolare i conti e rompere un assetto politico che risale al 2018 e dell'area renziana del PD, visto che Andrea Marcucci è un renziano e allora anche Graziano del Rio dice li fa fuori, politicamente parlando. Beh, anche Zingaretti aveva tentato di cambiare questo senza però riuscirci. Ma Letta adesso tira fuori la parità di genere per far fuori Marcucci e del Rio. Ma lui dice in Europa è la precondizione, la squadra del PD è una squadra di soli maschi e gli incarichi monocratici sono tutti maschili, dice. Beh, è così, c'è un po' di bagarre nel partito. È così, adesso non vi sto a raccontare quello che sta facendo Letta, il subuglio che sta creando con queste cose abbastanza inquietanti, ma Draghi gli dà l'alto lai, dice insomma bam, perché immaginatevi Draghi che si è sorbito Letta per un'ora e mezza, perché Letta ha voluto parlare del dopo pandemia, no? Come se il presente a lui non corrisponde, non lo scalfisce, dice il presente. Presente? Eh, il presente, il presente avrà detto, no? Perché nel Corriere della Sera dice lui è un leader che guarda al dopo. Al dopo che? Al dopo cena, al dopo pranzo, guarda al dopo. Dice al presente non ci guarda lui, a lui non interessa il presente perché è crisi economica, lui guarda al dopo. E al dopo avrà raccontato a Draghi delle sue priorità, Iussoli, legge elettorale, vota ai sedicenni. Immaginatevi, immaginatevi Draghi così, no? Che lo ascolta e dice ma cosa gli rispondo adesso a questo? E il capo del PD è fondamentale nella maggioranza, devo far finta di dire ah sì, interessante, no? Poi dalle fonti di governo gli avrebbe detto mi raccomando che tutti i giorni ha... perché Letta sta volutamente creando problemi. È arrivato, ha capito che Salvini spadroneggia in questo governo perché è l'unico che propone delle cose, no? Cose anche di buonsenso, mentre l'altro propone lo Iussoli, Salvini vede come fare per le cartelle esattoriali e tante altre cose. E a Enrico Letta, a capo di un partito vuoto, senza idee, senza proposte, l'unica cosa che gli rimane di fare è attaccare tutti i giorni Salvini. Quindi vuole fare il guastafeste del governo, guidato da Draghi, con Giorgetti e Salvini. Questa è la realtà. E allora vuole rompere le uova nel paniere in questo governo, cercando di tirare su polveroni contro Salvini che risultano poi, agli occhi di tutti, abbastanza insignificanti. Però, attenzione, il PD guadagna voti. C'è un ritorno dell'elettorato verso il PD. Come se l'ex elettore PD abbia visto Letta che dice queste sciocchezze e dice sì, questo è fantastico. O forse ha ragione Letta. L'elettorato del PD vuole solo contrastare Salvini? Vuole solo che il capo politico vada contro Salvini dalla mattina alla sera? Ma realmente l'elettore del PD o l'ex elettore del PD piace un partito che è contro una persona? Siamo a questo livello? Preferiscono un PD contro Salvini che un PD che propone soluzioni per gli italiani? Se è così mi arrendo. Mi arrendo e mi arrendo. Grazie e buon proseguimento di giornata.